Basta, chiudo tutto. Trading scrocchierello per principianti, trading scrocchierello per esperti, Moby Vicks e trading scrocchierello su azioni. Bravi agli oltre 400 studenti che ne hanno fatto accesso finora, d'altronde sono quattro corsi straordinari in cui ho messo tutto me stesso, ma ora è il momento di andare avanti. Ho progetti troppo importanti per il futuro e semplicemente questi corsi non avranno spazio nella Batsway del 2023. Ma prima che gli haters facciano i salti di gioia, chiude corsi di trading automatico? Sì, chiude Batsway? No, assolutamente no. Quindi ricapitoliamo quando chiudo e che cosa? Il quando è facilissimo, il 21 dicembre. Sul cosa invece la notizia straordinaria è che chiude il mio percorso di punta che attualmente vede nel momento di questa registrazione 327 studenti che hanno costruito da zero i loro trading system in poche righe di codici che adesso sono live su future e su azioni. Studenti come Aldo, grazie a Francesco sono riuscito ad andare live in tempi brevissimi seguendo le sue indicazioni. Claudio, anche partendo da zero consentono i corsi di poter scrivere un proprio trading system e di metterlo live. Oppure Francesco, con gli miei mani sono riuscito a trovare dei sistemi che metterò live. E infine anche Luca. Dopo tanto girovagare nel trading discrezionale e sistematico mi sono fermato con Francesco Buzzi. Sì, perché di gente che racconta storie ne è pieno il mondo, ma quando si parla di codici aperti e strategie replicabili, beh, molte porte si chiudono. Ed è proprio di chiusura che stiamo parlando, mio caro Luca. In una riga chiude il metodo più veloce in Italia, se non anche nel mondo, per costruire da zero i tuoi trading system in otto righe di codice. Qua due esempi. Questo sistema sui maialini, su Linux, letteralmente otto righe di codice e a destra della linea rossa è tutta la performance fatta out of sample. Oppure questo sistema su oro è diventato famoso tra i miei studenti. Dieci righe di codice, utilizza il Parabolic SAR e a destra della linea rossa c'è tutta la performance fatta out of sample. Un corso che ha fatto felici 327 studenti e che ti dice riga per riga cosa scrivere per costruire i tuoi trading system performanti. Un corso che ha al suo interno sette trading system costruiti da zero insieme a codice aperto. Praticamente ti porto per mano la costruzione dei tuoi primi sette trading system. Ma oltre a ormai celebre trading scrocchierello per principianti, chiude anche il suo fratello maggiore, trading scrocchierello per esperti. Il corso per la validazione che mi permette tuttora di tradare live trading system iper robusti costruiti 4-5 anni fa in condizioni di mercato completamente diverse anche su indici. Come ad esempio il ormai celebre sistema AUM sul Nasdaq che ha il 75% di trade vincenti quando è out of sample. Eccolo qua 75%. Abbiamo il SP500 ancora un indice. Abbiamo l'Arrow che solo nel 2022 ha fatto 24 mila dollari. Oppure ancora sull'SP500 l'esecutore. Insomma gli indici non sono stati minimamente scalfiti per non parlare appunto di oro di cui ti ho fatto vedere il codice prima. Dieci righe di codice per tutta questa performance. Oppure ONCE che in poche righe di codice nel 2022 ha fatto 25 mila dollari. Ma spostiamoci un attimo. Crude oil. Crude oil tradabile anche col micro o col mini. Nel 2022 ha fatto 17 mila e 500 dollari. E infine SOIA. Un'altra commodity molto interessante. 20 mila dollari nel 2022 totalmente out of sample. Sistemi così longevi e profittevoli possono prendere vita solo con un'attenta fase di validazione. E nessun software, tool, device potrà mai farlo al posto tuo. In questo corso è contenuto ciò che ti permetterà di evitare di spippolare sul tuo codice ogni due settimane, ogni mese o ogni evento particolare perché il trading system inizia a piegare la testa. Insomma chiudono i miei due corsi di punta sul trading automatico. Corsi che racchiudono tutto ciò che serve per essere profittevoli sui mercati con il trading automatico. Ma non solo. Chiudono anche i tanto apprezzati Mobivix e trading scrocchiarello su azioni. In sostanza lo scudo e la spada che utilizzo in base alle varie fasi di mercato. In Mobivix trovi quattro studi proprietari per prendere profitto nelle fasi di alta volatilità o nelle fasi bearish del mercato. Tra l'altro trovi all'interno anche il mio famoso sistema che ho chiamato stipendio VIX. Sfrutta uno spread particolare sul VIX che lo rende praticamente indistruttibile, imbattibile. Oltre allo stipendio sul VIX che ho chiamato apposta così ci sono altri tre studi che permettono di prendere profitto in modo diverso da a seconda della volatilità e a seconda delle fasi di crisi del mercato. E se questo era il Mobivix? Beh in trading scrocchiarello per azioni hai la spada, il doping, il NOS che può dare un boost al tuo portafoglio nelle fasi di mercato più bullish. Per tutto il 2021 ben il 60% del mio capitale era allocato su questo tipo di operatività e tra l'altro il TSA abbreviato è l'unico corso che include il mio software proprietario per portafogli Bazzfoglio. D'altronde le fasi bullish rialziste sono molto più frequenti e profittevoli delle fasi ribassiste. Ma soprattutto questo corso o lo prendi mo' o non lo prendi più. Punto. Te l'ho detto. Chiudo tutto. Qui sotto troverai i prezzi? Non so bene i ragazzi del team che prezzi abbiano fatto ma sostanzialmente più corsi prendi e più li paghi un cavolo e un barattolo. Per qualsiasi domanda hai il famoso numero verde 800 475 300 o il contatto diretto whatsapp del consulente con cui hai parlato. Se sei già studente e hai qualcuno di questi corsi scrivili o chiamaci perché abbiamo pensato delle soluzioni particolari come ad esempio se hai back volumica, back tecnica o protocollo classe A. Scrivi e fatti sentire. Abbiamo cercato di studiare tutte le soluzioni possibili per farvi felici. D'altronde siamo quasi a Natale. Cioè va bene la chiusura, il cambio di programma e di pianificazione però ci stava a farvi un regalo. Quindi in definitiva chiama chi devi chiamare, scrivi a chi devi scrivere, scrolla a chi devi scrollare e approfitta dell'ultima occasione per mettere le mani sui miei percorsi di trading automatico. L'ultima possibilità è il 21-12 che tra l'altro è anche palindromo. Me ne sono accorto adesso. Quindi è un segno del destino. Ti lascio. Clicca subito qui sotto, scrolla quello che devi scrollare, chiama chi devi chiamare, ti aspetto. Ciao! Ciao!